E il pescatore va dove non si sa, in mezzo al fiume resterà, la corrente chissà dove lo porterà. Dai che sto registrando! No devi passare lì avanti che lì c'era l'acqua alta, non devi uscire, devi andare qua al laghetto. Guarda c'è un pezzo di canna che potrebbe servirti. Questa è bella fonda, non ti devo entrare. No, qua o in moto o niente. Eh, pazzarola, devi stare di là ma di là tanto. No, non adesso in moto, adesso passo di qua, no, neanche, perché di lì non ci passiamo più. Voglio vedere se scivolo sul sasso e cado dentro. Però la spazzatura c'è ovunque purtroppo. Ma ovunque. Questa è la mia fratella tirare qui il paradiso. Questa è la mia fratella tirare qui il paradiso. Grazie.